Poi pensare alla dinamica ed è quello che chiama signore della protezione animali c'è un iguana su un albero Poi quello va là, dopo c'è quello, un tizio, va là e fa, signora è un croissant Finiva lì Dov'era il giornalista di Vice, dopo dietro e diceva, oh mio dio questa scena dovevo raccontarla Cioè, come gli è arrivata, è una cosa così insignificante Che non capisco come sia arrivata proprio alla mente di questo tizio Che ha scritto la, Matthew Champion si chiama lì con più Va beh, basta Che fedendone, questa volta basta con gli scherzettini, anche se vi è piaciuto Ho visto che anni hai accolto un po' di fan con il tuo ingresso Una gente che rivuole Nanful È vero, a gran voce Nanni è sempre stato un grande fan dell'ASVR Magari faccio un ASVR No, fa dopo i titoli di coda, c'è la sua parte Ah, leggo i titoli di coda in ASVR Va bene, come sta? Stare bene? Molto bene Qua è il polline ha un po' rotto i coglioni, posso dirlo apertamente? No, in assoluto siamo fortunati che abbiamo le mascherine Vero, esatto È uno dei privilegi di avere le mascherine Però ti arriva comunque in gola Lo sai cos'è il polline? Ecco, esatto Posso chiudere una piccola parentesima di flessione al volo Googleate cos'è il polline? No, ditemi se il polline appunto non è Sexual harassment da parte degli alberi Nei confronti di noi umani Ma scusate, ma che piega sta prendendo questo posto? No, 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 però a questo punto No, no, no Effettivamente, cioè Indagine Sicuramente non è consensiente Non è consensiente? Io non do il consenso a farmi Posso chiedere a Sara Venire in faccia Si guarda qui di tagliare tutto Ti sei occupato del montaggio Taglia tutto Ci stanno letteralmente venendo in faccia gli alberi E non è molto bello E questo è il titolo di Vice Che ci sarebbe stato Non ti sei mai accorto di essere stato violentato da un albero Ti spiego il perché Vabbè, salutiamo gli alberi e i loro residui Molto bene, comunque questa è una vera Sì, benvenuta primavera E comunque vorrei farti notare giù Che stai diventando un Uno di loro No, un vicino rompicoglioni Cioè, iniziando Eh, il Pauline Non ce la faccio È una di quelle cose Che ogni anno mi dà 30 anni E non la metà Di qualcuno, ragazzi È vero Iniziamo Forse è quello, forse è quello Va bene Comunque con la visita In questa puntata La del pubblico per la prima volta Quindi sono felicissimo di salutare Sara, Mic, anche Jacopo Che vado a trovarci È molto bello avere il pubblico Mancano solo le risate finte Credo a questo punto Anche perché Ci metteremo adesso Anche perché io potrei Potrei far assaggiare a Jacopo I veri taralli Perché i pugliesi Se la menano Con questi taralli Che è verità Commentate anche voi Lo strutto non ci interessa Nei commenti Se non mi interessa Va bene Bene, perfetto Cosa parliamo in questa puntata Lo dico subito In questo episodio Finalmente gli sport Sono sport olimpici E dai Poi Adobe Ti dice brutalmente Quanto fa schifo Il tuo sito Vediamo come Che ci fa poi Un billboard di Amazon In via col vento Sai spiegarmelo? Eh, sto lo dico io E infine No, non è vero Non è infine Ma un libro di ricette Per chi è in post long covid Sai che non senti gusti Le cose C'è un libro di ricette interessante E infine davvero I pastelli di cera Che puoi mangiare Esistono Weee Guardate Spoiler Di una cosa Che purtroppo La nostra strampante Non è bella Ma queste sono Paola e Chiara E dovevano finire Il nostro Ma non ce l'abbiamo fatta Non è un play che ci sposta Giù, ti prego Riesci a scandire le parole No, questo è inutile Perché non ci sto capendo un cazzo Era inutile Era inutile C'era una La notizia di prima Era il post covid Io non ho capito niente Non post covid Allora, se avete capito qualcosa Scrivete quello che avete capito Di quello che ci viene Andremo perso passo Andremo perso passo Ci sono i sottotitoli Esatto Sono aiutato dal testo Quindi molto bene Molto bene Dai, allora Partiamo al volo Subito al volo Con il solito reminder Che vi facciamo Prima di ogni puntata Ormai da qualche settimana Abbiamo organizzato Un workshop Con l'università di Camerino Il 12 Il 19 giugno 2021 Tutti i dettagli Sono all'interno del link Che trovate in descrizione E all'interno di Biscottini Comunque Sono due giornate Sono 16 ore totali E' un workshop Molto bello Molto bello 16 ore Che si divide in due sabati Grazie Anni Perfetto Esatto Quindi molto bene Vi aspettiamo Ci sono ancora un po' di posti Affrettatevi Affrettatevi Comunque sarà molto divertente Perfetto Partiamo subito Con una notizia Che è venuto a darci Jacopo È venuto qua Ha fatto Sapete questa cosa? No Incredibile Perché ragazzi Lo dite udite No ha detto Ha detto Ha detto È venuto qua Ha detto Questa notizia È troppo grossa Per scrivervela Vengo da Roma Ah è vero Con la bicicletta E ve la vengo a dire In studio Però nell'orecchio Nell'orecchio Bravo Perché Perché se no Se si sapeva Io non la so Cos'è Perché a te non l'ha detto Perché tu spifferi le cose Spifferi le cose Tu questo è uno spoileratore In sostanza Collegandoci anche All'ultima puntata Jeff Bezos Ha ufficialmente Aperto un'asta Con cui potrai Acquistare Tu fortunato Ascoltatore L'unico biglietto In vendita Per andare a fare Un viaggio Nello spazio Insieme a Blue Origin Che se avete visto Settimana scorsa La puntata Sapete cos'è Fondamentalmente Allora Molto bello Molto bello Ma a questo punto A me viene Da lanciare Una challenge A tutti quelli Che ci sentono Se c'è qualche Pazzo Psicopatico Che riesce A vedere Tipo Quante volte Diciamo Elon Musk O Amazon E cercare Non lo so Dei pattern Di frequenza E delle relazioni Spure anche Attualmente C'è molto più Elon Musk No Molto più Bezos Che Musk Ma molto più Musk Che Kanye West Ahia Kanye West Eh no C'è un po' di motivo Ma adesso torna Perché torna Con le felpe perfette Ah è vero Stanno lavorando Secondo me c'è un periodo In cui lavorano E non fanno niente E poi dopo cacciano tutto Devono pensare le cose Molto bene Quindi brevemente Quindi Blue Originals Il progetto di Jeff Bezos Per partire sulla Luna In sostanza Per viaggiare nello spazio Più in generale E appunto Partirebbe una spedizione A breve E appunto Fino al 19 No Fino al 12 Il 23 giugno Credo appunto Verranno svelati Verrà svelato il nome Di chi si ha giudicato L'asta Però adesso L'asta è aperta Quindi andate lì E biddate come dei pazzi Sì è un'asta È un'asta ragazzi Un'asta cieca Appunto Tu non puoi vedere Quanto offrano gli altri E alla fine Verrà eletto Un vincitore In ma live Facciamo di nuovo Le scommesse Secondo me a quanto si chiude No questo è mezzo milione Secondo me Mezzo milione Secondo me 3 milioni 3 milioni Vabbè che effettivamente È un posto solo Secondo me 3 milioni Però 3 milioni Vale la pena 3 milioni Purtroppo Dipende se ce le hai Tu dici Poverazzo Poverazzo Il 12 giugno Il giorno del nostro workshop Tra l'altro Verrà detto in live Quindi se sarete al workshop Saprete in live Chi avrà Probabilmente uno del workshop Potrebbe vincere Probabilmente Probabilmente Vabbè Velocemente Comunque questo qua Molto interessante È bello Bellissimo In realtà Forse vale la pena Solo perché sei Il primo umano Non professionale All'andare lì su Molto figo Poi partiamo Passiamo ad altre cose Breccio L'altro l'altro Ci ha portato questo Social Non so come chiama Un app di No Un sito di No 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 Te la vendo così Vendi la vendi Allora È un nuovo modo Di fare le videochiamate Aziendali La cosa bizzarra È che sembra un videogioco Sembra un videogioco Dei pokemon Del game boy Letteralmente La cosa bizzarra È che dovevo fare Una videochiamata Con un amico Che è la persona Più professionale Nella mia cerchia di amici Lui fa Studia Fa ricercatore Di biologia Questa è la versione corta La versione linkedin A quattro baggi Terror Non si capisce niente In Finlandia E lui ha fatto Una conferenza Un convegno Sulla biosfera Che cazzo L'ha fatto E il posto E il convegno Era su questa Applicazione qui Su questa piattaforma Esatto Che è una piattaforma Praticamente Che è la stessa funzionalità Di hangouts Di hangouts Di hangouts Non è chiuso Comunque meet Zoom Di zoom Dimmi un'altra Skype Skype WebEx Cisco Cisco Teams Perché Continua Devo interrompere Perché lui continua Se no Allora la cosa interessante È che Funziona appunto Come un social Sembra appunto Un mondo virtuale E tu Hai il tuo Personaggino E senti solo Quello che dicono Le persone vicino a te Quindi immaginatelo Come un luogo fisico Dove Per esempio In una stanza Tu ti avvicini al tavolo E nel tavolo Parlano di una roba Giuliano parla Delle sue cose Di polyfans Non lo so Poi Ti allontani E vai In un salottino E nel salottino C'è Nanni Che ti parla Tutte le piattaforme Che sono Stai elencando Tipo 13 ore Le piattaforme Su cui potresti essere Quindi Nella stessa stanza Tu È come davvero Un mondo reale Dove tu senti Solo quello che Unisce le dinamiche Del mondo reale A quelle del mondo digitale Creando quindi Degli spazi Digitali Dove però Tu ti avvicini Fisicamente Alle persone Quando faremo mai Una pubblicità in tv Sicuramente Saranno anni Si recupererà di tutta La parte di Daskalio È presente La spiego così È presente a Pokémon Quando Quando vai dal professore Quando vai dal professore A scegliere il Pokémon Invece del Pokémon Ci sta Giuliano e Riccardo Che parlano Poi la cosa bella Ci puoi parlare Solo se clicchi Sul personaggio Invece qua Questa è la cosa bella Cioè tu Più ti avvicini Più senti Le voci Esatto Se mi avvicino Si sente lontananza La voce Bellissimo È interessante E la cosa più interessante È che lo stanno utilizzando In settori molto professionali Che sono molto distanti Da questo stile Che è chiaramente giocoso Infatti adesso Io la vorrei buttare lì Mi piacerebbe proporlo Per delle cose future Per Caffè Design È vero È molto comodo Perché appunto Puoi organizzare Magari un workshop Anche una festa Una festa Esatto Un evento Dove ti muovi L'avevamo visto Ti ricordi Avevamo visto Quella Che aveva fatto Il party su Excel Quelle robe là C'era anche dei trend Per chi si ricorda La piattaforma Abbo Non so se Esatto Abbo È molto simile È molto molto simile Era fatta Un tempo Sì 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 Questo sai cos'era Questo era L'origine Dei schesciamenti In digitale C'era gente Per farsi la sua stanza Spendeva Molto bello Guardate che bello L'internet Prima Dei Dell'internet Va bene dai Andiamo avanti Con Ottimo A sti cazzi Che Breccia Lascio Il privilegio Ok Allora Sti cazzi È molto semplice Questa qua Parlavamo appunto Di Pokémon E di quanto assomiglia Questa è molto bella È una chicca Che potete giocarvi A tavola Nella vostra prossima Cena Di famiglia In sostanza Dei ricercatori In Germania Hanno scoperto Famiglia di chi? Con il professor Occhè Giochi a Pokémon E tua madre Sì sì Giusto Giusto Basta giocare sempre E tu gli dici Guarda Dove vivi Nella pubblicità Degli anni 90 Non lo so Non ha senso Questa cosa Però Allora Questi scienziati Incredibili Hanno scoperto E hanno nominato Questi batteri Pokémonas Proprio perché La loro capacità Non dal bergamasco Ma proprio perché La loro capacità La loro cosa Incredibile E di vivere Sono batteri Che si evolvono Dentro queste sfere Di Come si chiama Un'ameba Un'ameba A forma sferica Per cui Sono di Pokémon Cioè Questa è la somiglianza Molto divertente Complimenti a Questi scienziati Però Posso dire La cosa più filosofica Oddio Questo è Dio Che ti ha punito La cosa ancora più bella È che Evidentemente Questi ricercatori Sono dei Sono dei nerd Quelli che Siamo noi Quello che ha disegnato I Pokémon Se lo sarebbe Ma immaginato Che un giorno Un ricercatore Avrebbe scoperto Avrebbe dato Il nome dei Pokémon Cioè È una roba incredibile Però la mia domanda è Qualora questa roba qui Dovesse diventare Un virus letalissimo A questo punto Godagachemole sarebbe Ai luntori Ovviamente Come ti chiama I vaccini Bene 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 Molto bene Perfetto Allora andiamo avanti A una tizia più bella Che forse potremmo darvi Questa puntata Non è più bella La mia preferita Forse in questa puntata Che mi ha aggassato moltissimo È che ufficialmente Gli sport sono entrati A far parte Della grande famiglia Degli sport olimpici Insieme al Bragditto Dai ma che falle Ma sì Insieme al curling E altri sport indimenticabili Come il tiro al piattello Insieme al loro Fa parte Finalmente Stai insultando la community del curling No no anzi Guarda Benvenga Se vogliono inviarci una pentola Come si chiama Comitato olimpico curling Comitato olimpico curling Ok scusa Va bene Perfetto Quindi sì Di fatto sono partite Proprio settimana scorsa Il 13 maggio Le olimpiadi degli sports Sono di fatto Un evento ufficiale De olimpico Però Anticiperanno le olimpiadi Come dire Non potete dire Quelle reali Quelle fisiche Mettiamola così Quest'anno Vi chiederete Quali giochi Quali giochi Quali sport Sono stati coinvolti Ovviamente Parliamo di sport No non c'è il calcio Non c'è il calcio Non c'è FIFA C'è Gran Turismo Comunque questo inaspettato C'è il La regatta Ma scusa mi giuro A proposito di regatta Volevo farti vedere La nostra squadra ufficiale Della regatta Giustamente Abbiamo una squadra Anche noi Regatta Regatta Il sail Come si chiama Come la chiamate Voi italiani Sailing Barca a vela E si chiama così Virtual regatta Oh che palle La regatta Non si può dire Tagliala No no Perché Va bene Salutiamo Grandissimi Ma che belli Di italiana Di Guarda sono tutti diversi Allora lui è Certo Le luci Francesco Sole Le luci Francesco Sole Sì sì Lui Vabbè Quello che stiamo vedendo Sempre per salutare gli amici Che ci vedono con le orecchie Da Spotify Stiamo vedendo le facce Della nostra Squadra italiana Squadra di vela Che parteciperà Alla regatta olimpica Virtuale Vabbè Continua con gli altri No però Volevo commentare un attimo il video Perché mi sono appena accorto Che sono nell'acqua Loro praticamente Cioè sono immersi nell'acqua La vela sai dove si fa Certo giustamente Che idiota Ovviamente Certo Vabbè niente Ti vedo disattento Ti vedo disattento Loro sono videogiocatori Nell'acqua È chiaro Ma negli oggi ti stanno il microfono Allora no L'ultima La cosa che volevo dire È che tra l'altro Tra i sport appunto coinvolti C'è anche il ciclismo E guarda un po' La piattaforma è Zwift Quella di cui abbiamo parlato Qualche settimana fa Appunto che introduceva Questo discorso Del fare bicicletta Spinning quasi In virtuale Quindi è vero Cioè su Zwift Fai davvero Attività fisica Esatto Chiaramente L'eccaminato olimpico Si appoggia a piattaforma Gli assistenti Non è che ha fatto la sua Però Infatti Se noi pensiamo A quegli altri Sport Anche di macchine da corsa Tu hai tutta la postazione Che è iper professionale Simula in modo Molto fedele La macchina reale No La domanda Che ti faccio La bacca bella Ve la ricordate La pubblicità Del Kuwait Quella La bacca Bellissimo L'asfalto Sì No Quella usi il joystick Sì Il controllo No Quella domanda che ti faccio Allora Questi sono gli sport Che adesso hanno approvato E invece tipo Call of Duty Call of Duty No Perché si ammazza la gente Giustamente Non è il caso Però La guerra Non può essere Definito sport Cioè perché dovrebbe essere Proprio l'antitesi Ma infatti Allora qua ci sono due La lotta sì Perché se no Qualcuno nei commenti Dice La lotta Non è la lotta La guerra La lotta non è guerra Allora qua infatti Ci sono due argomenti interessanti Allora il primo è che Sicuramente Sport Cioè Videogiochi molto famosi Che sono ovviamente più grossi Da Call of Duty A Counter Strike Eh La miglioranza sui videogiochi Sono più grossi Sono più grossi Sono importantissimi In mondo del gaming Non fanno parte Da adesso La possibilità Che non siano Che non Che non rientri In questa Che non rientri In questa cosa Porterà secondo me I brand A in qualche modo A convertirli Quindi io Secondo me La vedo possibile In un futuro Anche vicino Un Call of Duty Light Light Tipo Ah bello Dove si abbracciano Perché Giuliano No Con le pistole Però magari è painball Perché Giuliano Effettivamente ha fatto Un'osservazione giusta Non è il problema L'arma Perché l'arma C'è anche il tiro piattello E gli sono gli sport Con le armi E il contesto Il problema è la guerra Esatto Il contesto Uccidi la gente Magari Call of Duty Tira il piattello Bello Però vabbè Il gioco dove c'erano Le anatre Che tu dovevi sparare Le anatre Che gioco incredibile Da canto Da canto Che c'era il canto Che faceva E poi spariva Cazzo È una roba Bello Scusa ma Gli zombie si possono uccidere Perché a questo punto Gli zombie sono morti già Che c'entra Gioco di zombie Però i diritti degli zombie Giusto Comunque Intel Ha Instaurato Questa notizia Forse la sai meglio di me Ha instaurato Una sorta di Pre-challenge Se vogliamo Fattranno scorso Con alcuni videogiochi Invece che non sono Rientrati nelle olimpiadi Invece che sono più Popolari Come Street Fighter Street Fighter Sì 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 Questa roba qui È molto importante Sia perché Lato olimpiadi Sia perché Il mondo Degli sport Nei prossimi anni Crescerà davvero In maniera Sì sì Gigantesca A questo punto Assolutamente Mille cose Che è successo Il supporto visivo Comunque appunto Le olimpiadi Giusto per Sapete che le olimpiadi Stanno quest'anno Perché 2020 2020 non è mai esistito Quindi Saluti a Tokyo L'anno scorso Ma nel 2021 Comunque queste olimpiadi Sono le olimpiadi più belle Stanno facendo il Gundam No Anche Probabilmente anche per Menarsela un po' Ci mancherebbe la voglia Bene va bene Perfetto Dai allora passiamo Stiamo appunto Nelle questioni In cose virtuali Vi parliamo di questo In realtà è una sorta di Plug-in se vogliamo Di Adobe Che Adobe ha lanciato Perché Adobe Io non lo sapevo Ha una sua parte Si chiama Adobe Experience Manager Che ti permette di fare Di fatto siti di internet Roba digitale Non lo conoscevo Questa è la parte Che vendono tutte le consulenti Esatto Esatto Proprio B2B Massiccio proprio E niente C'è un nuovo plug-in Per questa piattaforma qui Che di fatto Ti fa una recensione Del tuo sito In bene o male Ti dice Cosa funziona E cosa non funziona Ma da tutto Cioè Dalla tagline I copi che usi Fino alle immagini Color palette Dice Questa roba qua La gente non la capisce Questa roba qua È meglio Se la fai così E si collega poi Al suo ecosistema Questa secondo me È una delle cose Più brutte Eh vabbè Perché questo qua È proprio È scienza Più o meno È un'uniformazione Del messaggio Ma in una maniera Proprio Perché appunto Qua vuol dire Che copi Troppo lungo Cioè perché Se vai di regole No Magari hai Il bottone Devi avere due parole Sette caratteri Cioè Ovviamente delle regole Che verranno prese Se un'intelligenza artificiale Ammazza un po' La creatività Viene diciamo Alimentato da quello che esiste Certo Quindi andrà sempre Ad appiattire No Diciamo che Per chi non vuole fallire Però queste piattaforme Vengono utilizzate Da grandissimi brand Quindi vuol dire Che magari Un brand tipo Gucci Tipo Louis Vuitton Quando devono rifare La piattaforma Quindi tutto il sito E-commerce Si usufruiranno Di questi servizi E probabilmente Andranno a correggere In realtà Io lo vedo anche Piuttosto naturale Perché è una roba Molto simile A quello che offre Grammarly Non è presente Grammarly Ti fai analizzare un testo Ti dice Tutte le sue regole scientifiche Se il tono è informale Devi usare queste parole Quindi ti dà proprio Un punteggio Ci sta Però esatto Grammarly funziona Perché di solito È una No Una sola entità Che gestisce questa cosa Tu scrivi l'articolo Vedi le sue correzioni Prendi una decisione Nel momento in cui Queste cose Vengono divise Quindi tu fai il sito Il copy Fai i copy E poi ci sta un tizio Che invece trova 56 ore E dici Cazzo La mia giornata È risolvere Questi 56 errori Dopo ti smerda tutto Quindi stiamo Occiendo anche la professione Non questo genere Ti smermella tutto No Non per forza I correttori Però non è una roba È bello Quando c'è un lavoro Non fatto bene Quindi te lo uniforma In positivo Ma magari un lavoro Fatto molto bene Te lo uniforma In negativo Certo Ti appiattisce La linea Assolutamente Assolutamente Tu non potresti mai Utilizzare le tue parole Per niente Esatto Mi direbbe Questo non lo capisce nessuno Eppure io sto cambiando La lingua italiana Ragazzi Un giorno lo capirete Ma questo non mi interessa In questo momento Poi parlere tutti male Come me Sì esatto Comunque il progetto si chiama Il progetto Si chiama Project Catchy Content E potete appunto Navigarne un po' di più Anche per scoprire che fa Sempre dove Nani Esatto Comunque il link In descrizione Per spulciare Tutto quanto Bene Allora passiamo a quest'altra cosa Invece Sempre restando in tema Virtuale Me la spiegate voi Perché sapete che Sono un po' un cane Sinceramente Però io ho capito questo Intel Sta praticamente Provando a rendere Ad esempio GTA 5 Più realistico Di quello che è Ma realistico A livello che Tipo Non lo distingueresti Dalla realtà Corretto Esattamente Praticamente Perché Intel Fa queste robe Da non profondere Con la squadra di calcio Inter Cambioni d'Italia Comunque Inter No praticamente Ci sono Infatti Ogni tanto Te lancia Nell'orecchio Guarda Scusate una cosa Per chi ci sta Seguendo su YouTube Guardate questo screen Questa roba qui Non è un video È il videogioco Cioè questo qua È GTA Esatto Praticamente Viene preso Incredibile ragazzi Viene preso GTA E poi vengono applicate Tutta una serie Di correzioni Per farlo sembrare Il più possibile Alla Alla vita reale Comunque Te ne accorgi Tipo C'è il riflesso Del sole Nel costo Della luce Di dietro dell'auto Che è Cioè proprio Dici Dettagli incredibili Colori Quanto è triste La vita vera Rispetto a un joke C'è tutto un trattamento Che lo rende Naturale Perché praticamente Loro Adesso Cerco di spiegarla In modo molto semplice Con L'intelligenza artificiale Loro danno Dei Dei riferimenti A questa intelligenza artificiale Possono essere La Luce Che c'è a San Francisco Danno Degli altri riferimenti In passi in passo Questa intelligenza artificiale Loro la applicano Sopra Al videogioco Che è già stato creato E quindi Vediamo Che i colori Che sono un po' Finti Un po' Esagerati Del mondo Di GTA Vengono Un po' Appiattiti Un po' Portati Alla quello Che è Sembra Una ripresa Dell'inseguimento Medio americano Siamo qui A Ostino Aio Un rapinatore Appena aggredito Alla signora Molto bene Molto bene C'è una cosa interessante Però Forse un po' Troppo tecnica Minicio dopo Se la sprucerà bene Che Praticamente Il file Il file 3D Viene spacchettato In diversi filtri Questi filtri Non lo so Vabbè È tecnica la cosa Vabbè Studiate Se vi interessa La roba Comunque è molto interessante Perché appunto Questo qua è un altro passo Per ridurre Comunque Riduce il Il gap No La modalità Con cui viene renderizzata Magari una scena Perché Qua prendi una scena Che già esisteva E la fai diventare bella Invece di renderizzarla A una qualità infinita Folle Prima Quindi usi Tipo come funziona Il denoising Per Per quelli che lo usano Bene Perfetto Salutiamo È una roba Che ti crea Delle informazioni Dopo Non Te la modifica Benissimo Perfetto Complimenti Per questo dettaglio Allora Nuova sti cazzi Questa della buschituna Ti schiaccio io il bottone Sti cazzi Ma perché Hai messo questa modifica È così a caso Ho scritto anche male joystick Tanto che stavo eccitato Credibile Tra l'altro questo è un joypad Un joystick Mi ricordi la questione Controller Joycon Datti un controller Sbagliato completamente Vabbè niente Sti cazzi giganteschi Bello però Guarda c'è anche Vediamo il video Vediamo il video Allora sono usciti Nuovi joystick Della playstation No È un controller Cazzo Però va va bene Nuovi joystick Della playstation 5 Sì E Sono neri e rossi Bello Molto bello Quello nero Sì perché adesso L'unico disponibile È quello bianco Ok Ci sono nel playstation Assieme? No No C'è niente È bello Comprate i rossi Cosmic red Midnight black Non è nero È rosso Ma è L'orso mezzanotte Cosmico Mezzanotte È rosso Cosmico Complimenti Noi lo chiamo Cosmico Che è un mio amico di giù Va bene Perfetto Cosmico Lo chiamano Cosmico Va bene Benissimo Allora Poi quest'altra Questa notte Questa qua È veramente Tenetevi forte ragazzi Incollatevi Agli schermi No Allora Bellissimo C'è una tecnologia Piccola parentesi Questa è una roba Che potrebbe Cambiare un po' Il cinema La storia del cinema Probabilmente sì Cioè nel senso È una cosa proprio figa Allora In sostanza C'è una tecnologia incredibile Adesso vi raccontiamo Anche l'azienda che lo fa Però quella che è il leader In questo momento Che di fatto Ti permette Di applicare digitalmente Del product placement Anche su film Vecchissimi Ok In post In post In maniera completamente Realistica In sostanza Giuliano Interrogato Giuliano Che cos'è il product placement Il product placement All'interno dei film Esatto Perché è importante Dal punto di vista Per il quale un film Nasce Riesce ad arrivare Sul mercato Assolutamente Sapete bene Che un film Per essere prodotto Costa assolutamente Solitamente Chi sostiene questi costi Appunto Sono molti brand Che appunto Compaiono Sono presenti All'interno del film Supponiamo Un film Una serie Qualsiasi Un esempio Molto spesso È tipo Omega Con James Bond Aston Martin Con James Bond Quel film Ti diventa Però ci sono anche Casi molto più lievi Assolutamente La Coca Cola Nel bar È a casa La Coca Cola No Certo no Tutto quello che c'è Solitamente viene venduto Comunque a un prezzo In modo tale Qua stiamo vedendo Qua stiamo vedendo Le Nike In Forrest Gump Roba del genere Pepsi Ritorno al Futuro Esatto Esatto Quindi questo qua Molto bello Già di per sé Questo Nel senso che Appunto Questa tecnologia Permette di ficcare Un billboard Di Amazon Come dicevo prima In via col vento Banalmente Se uno potesse Farlo Se mai avesse senso Sembra la cosa brutta Qua Sembra la cosa brutta Ci state mercificando Le vecchie cose Se non fosse Che Allora Io ti inviteria A andare sull'altro link C'è quello che ti ho messo sotto Per vedere come funziona Cioè in realtà Come funziona Questo tipo di tecnologia Cioè questi matti Che sono questi qua Si chiamano Myriad Fondamentalmente Hanno un sistema Per Loro Tu gli mandi il film Ti mando il film Loro con un'intelligenza artificiale Decodificano le scene E capiscono Dove è meglio Posizionare Il brand Vedi in questo momento Questo dice Ok qua Sul tavolino Tipo no E compaiono le corone Chiaramente messe in post Ovviamente Questo è molto interessante Anche da un punto di vista Di globalizzazione Dei film Torniamo a serie Per un atto Assolutamente Perché magari Corona Mettiamo tipo No Algida Ok Algida in italiano E Algida Fresco È un altro brand Praticamente Però è lo stesso Fondamentalmente Quindi Magari può avere interesse A dire Quando lo riprendiamo Lo riprendiamo A casa Un brand a casa Il nostro E poi dopo In tutte le country Che me lo Distribuiscono Mi cambi il brand In modo tale Comunque Sono rilevante Per quel tipo di persone Chiaramente Qua noi stiamo vedendo Dei casi limite Dove il brand È estremamente esposto Però ci sono casi In cui magari Una scena in piazza Ci sono in lontananza No E questo qua È figo Dal momento che Questa pubblicità Può cambiare nel tempo Esatto Cioè quindi Nel 2021 C'è Coca-Cola Magari questo film Diventa tipo Titanic Che lo guardi 20 anni dopo E costa Di più Costa magari di più E può essere Un brand diverso Quindi è un po' bizzarra Questa cosa È incredibile Magari Caffè Design Nel 2030 Alcuno vedrà Questa puntata qui Ci sarà un brand Completamente diverso Ci sono delle bottiglie Di pasticche Di Viagra Tipo Pfizer Che ha promosso Questa puntata Pubblicità Vabbè Sì sicuramente Di Viagra proprio Spero che non stiamo In target Cioè nel senso Che la nostra Comunque vabbè Non interessa Questa cosa invece Vabbè Non è che il Viagra Sia chiunque Che loro quando Targetizzano le campagne No comunque È estremamente bello Appunto per questo discorso qua È interessante Una questione che possono Cambiare i brand E anche appunto I contratti Un anno Coca-Cola Ce l'hai tu Dopodiché ci sarà Pepsi Al lancio Coca-Cola E poi dopo Lo biglia Uno più scarso Oppure appunto In base alla nazione Di Guarda questo qua Apre nuove figure Che si occuperanno Di questo Del marketing È una tipologia di marketing Completamente diverso Di vendere brand Completamente diverso Come dicevi tu Quando faranno il film Dicono ok Questa scena In Italia la vendiamo a In Giappone la vendiamo a Eh guarda che è una roba È una super roba Molto interessante Anche perché io non ci avevo mai pensato Che ci fosse un'intelligenza artificiale Che decidesse dove mettere la roba Pensavo fosse Mettiamoci la bottiglia È di una complessità È incredibile Incredibile Cioè è pazzesco Va bene Un'ultima cosa da velocissima Appunto stando in tema cinema Perché in realtà Nelle sale americane Non so perché Cioè è una cosa così Tanto per dire Sta per uscire Per la prima volta Nella storia Notizia tanto per dire Tanto per dire Non c'è il tasto Tanto per dire Per la prima volta Nella storia Andrà un film di Netflix Nelle In un multisala americano Quindi la distribuzione Di Netflix Addirittura anticiperà L'uscita sul Netflix Si tratta di un film di zombie Di È figo Zack Snyder Sì È figo Ho visto il trailer È figo Tra l'altro Zack Snyder Che è diventato celebre Un mese fa Perché è uscito il film Della sua long version Di Come si chiama De Justice League No Con la vittura a quattro ore Sì 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 È lui È quello Snyder Ah sì È lo Snyder Ma questa notizia qua Mi ha fatto ricordare Una cosa Ne parlammo Bravo In chat però Del doppiaggio Del doppiaggio Dimmi di più Dei doppiatori Non mi ricordo la notizia Eh no Cioè il fatto che I doppiatori Parlavano No Intelligenza artificiale E i doppiatori Ah sì Doppiaggio Cambiare doppiaggio Ok però questo Lo possiamo collegare Alla notizia di prima Cioè sempre tramite Un'intelligenza artificiale In realtà Come si chiama Deep learning No una roba Come si chiama quello che ti fa Ti mette le facce Le fake Fake Deep fake Praticamente Questa Magari ne parliamo meglio Settimana prossima Sì dai Dai questa qua Un'altra roba incredibile Folle Ok io non ho capito Va bene Non me la ricordo Noi quanto siamo Dei professionisti Se le cose Non le sappiamo Non le diciamo Non le diciamo In compenso La gente che ci sta seguendo Non sta capendo Vabbè stiamo charlando Va bene Ok a posto Questa è la notizia E' interessante Perché appunto Una volta Mi ricordo Che quando parlammo Di come poteva Netflix in realtà Aggredire il mondo Di cinema Avevamo Ci avevamo fatto Dei tripponi Che alla fine Sono semplicemente Sono semplicemente Rimasti quelli Trip Cioè alla fine Netflix ha detto Io vado al cinema Ok punto Cioè nel senso Nulla di più E se vogliamo Dal punto di vista Logico è molto bizzarra La faccena Perché tu puoi Davvero spendere 9 euro al mese Per vederti tutti i film Però decidi di spendere Magari 9 euro Per andare a vedere Un solo film Nel cinema Che è assurdo No però Da un punto di vista Economico forse è assurdo Però ci sta Un'esperienza Diversa Ci sta il cinema Andate al cinema Amici Molto bene Perfetto Ma c'è il comic No no È un'aperti cinema Sì sì Andrò a cinema Andrò a cinema Provincia di Salerno Bene Ok Allora prima di passare Al sito bello Vi ricordiamo Ancora una volta Per l'ultima volta In realtà Perché stasera Ci sarà la live Stasera Se la vedete Lunedì Oggi Ci saremo in live Su Instagram Da Orefici 11 A parlare appunto A raccontarvi A svelare in realtà I tre design Che gli studenti Di IED Hanno realizzato Con Papiri Queste noi Settimana scorsa Siamo andati a dare fastidio Non so se avete visto La settimana scorsa Siamo andati a vedere Cosa stavamo combinando Con le giacche Eccetera Lunedì appunto Stasera scusate Sveleremo queste giacche Parleremo di tre design Le voteremo Saremo giudici Bellissimo Se la stiamo guardando Lunedì Stasera Alle 19 E 15 Sul nostro Instagram Ci sarà La live Dallo store Mega galattico Che hanno aperto Tipo Flex Duro Assoluto Bellissimo In via Orefici Assolutamente All'11 Però vabbè E' digitale Quindi Lo store sta là Sta là Certo E appunto Vedremmo Le E ci sarà la votazione Vero Assolutamente Ci sarà il vincitore Quindi poi dopo Visto che sono Guaglioni Dello IED Potete fare le domande Ah certo Assolutamente Tutte le curiosità Del caso Si può chiedere Ma perché l'hai fatto rosso Non lo chiedetelo Direttamente a loro Giustamente Perché sicuramente Lo sanno meglio di noi Comunque dai Ci sarà da divertirsi Io ho paura Che tu ti incazzerai Stasera però Posso dirtelo Ti vedo già nervoso Ma giusto Perché nei giudici Ci deve essere un Bastianich Un Bastardich Che sarò io Questa volta Chi sarà il Bastardich Vabbè No Si è bello Ci sarà anche l'assessore Ci sarà la Lede of Design Di Papapiri Ci sarà Guki Ci sarà l'antacca Bello O le dici O non le dici O le scadici No è questo L'assessore Ha detto Ah scusa Sai cosa farò Anzi Sai cosa potresti fare Tu dal momento Che hai dei problemi Con Con tutto Le parole Con molte cose Le parole Fai tipo Cracco Che fa la cosa peggiore Non dice niente Guarda e fa Sicuramente farò così Esatto Sì Va bene Perfetto Molto bello Passiamo al sito bello Sito bello Sito bello Sito bello Sito bello Sito bello Allora Sito bello Ci è arrivato Su Instagram Ci avete girato Voi amici È un sito Figo Cioè di quelli Che puoi divertirti A giocare Quando non c'è che fare Premi la Forse non va Su mobile Vabbè Non so come farvelo vedere È un peccato Niente In sostanza Ve lo racconto Ve lo racconto Si apre questo spazio In 3D In sostanza E con L'utilizzo della tastiera Con i vari tasti Con le varie lettere Attiverete Con relativi suoni Nelle forme Tridimensionali Animate Ed è molto Molto Satisfying Molto Molto Bello Fatto da Dio Sinceramente No No come no Madonna È fatto da una persona È fatto sicuramente da una persona Però appunto È estremamente Piacevole Fa anche dei bei suoni Beh c'è un po' Un proiettore Di proiettore Di proiettarlo Sul vostro cinema Personale Nanni ormai ho capito Che tratta La stessa notizia Che ha detto Giuliano Ma in versione stesa Esatto Adesso ti prendi La prossima notizia La racconti tu Questo è il modo Questo l'ho raccoglito Come la racconteresti tu però Ecco Reality Con i tiktoker Beh dai però Dai dai Tommi un po' De ciccia Ragazzi sta roba qua È incredibile Oh Le tiktok house Sì Parliamo di questo fenomeno Dai Certo Sì No fine Cioè la cosa finisce Dicci che ne pensi È favoloso Cioè È da un lato bellissimo Da quale lato Non lo so Cioè però C'è un qualcosa di Di Magico Sì Allora per chi non lo sapesse Le tiktok house Sono delle case Ma ce ne sono tantissime Sì Sono un po' Dove vengono Riusi I tiktoker Che di solito Sono giovanissimi Dai 16 ai 18 anni Tu ti immagini Il tizio che gli porta la pizza Cioè E bussa E così qua E' una brutta immagine Però dal momento Al momento Che per molti di questi È diventato un lavoro Ben anche Ben ritribuito Li metti insieme In un posto Dove possono essere Creare contenuti 24 ore Esatto La notizia È che Una delle case Dei tiktoker Più famose Al mondo La hype house Avrà uno show Tutto dedicato Su Netflix Tipo al passo con i Kardashian Bravo La cosa interessante Per questo Perché al passo con i Kardashian Che è una delle trasmissioni americane Se vogliamo più trash Ma anche più seguite Non so se c'è un equivalente in Italia Siccome no Ricanza Ricanza tipo Non so se Non so se Non lo facevano Una cosa del genere No Come si chiama Temptational Com'è Ricanza E in italiano Di Ah vabbè Ok grazie Non è che Però Però insomma Cioè Questi ragazzi qui Sono seguitissimi No E hanno dei numeri Che non hanno senso Quindi fare uno show Dove li seguono Nella loro vita Cioè la gente impazzisce E portare Già stanno in una casa Esatto E portare un contenuto del genere Su Netflix È una roba nuova Abbiamo già visto l'anno scorso Che Netflix ha portato contenuti Un po' più Scialli Come Florislava No Quello trash tipo MTV De Florislava No Delle coppie che si incontrano Sì Too Hot to End Ah Too Hot to End Che nel suo trash È stato di enorme successo Perché era uno show Che comunque Faceva di parlare Certo E quindi adesso ci provano Con un altro show Comprendente diverso E figo Figo Sta cambiando È molto interessante Il fenomeno Delle TikTok House Che pure in Italia Si sta dipotendo parecchio Perché ne appare Come se fosse una malattia Scusami Perché io Adesso Oggi Che cazzo è Lunedì gennaio 17 maggio Ah gennaio Maggio 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 2021 Dico Oddio Nel entro fine anno C'è uno scandalo Su qualche TikTok House Ok Perfetto C'è uno scandalo Ma proprio di quelle cose Di quelle cose che De chiudono TikTok Se non è già successo Non l'ho letto Non l'ho letto niente Però No Su ciò De rammi amorosi No no Che de rammi amorosi Si scopre che uno In realtà è la maggiore n No Scandali alla Padre del Scandali alla Sfruttamento Sì 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 male male Perché effettivamente Queste persone C'è troppo Troppo Rischio No C'è troppo Rischio È rischioso Sono situazioni Super delicate Che funzionano Perché te le fanno vedere Che funzionano Ma magari Sti ragazzi Non ci vogliono Manco venire Non ci vogliono Manco venire Capito Che ne sai C'è veramente Molto Al limite È nuova È passene osservato Ma Uscirà Va bene Va bene Ok Perfetto Siamo in questo mondo Un po' Magico Dove si sorride sempre Perché di fatto Vi raccontiamo Velocemente Di questa collaborazione Tra i bts Che sono anche Il gruppo preferito Di nanni Credo Nell'ultimo anno Credo Giusto Ovviamente Ovviamente Piacciono anche a me Dovevo metterlo Sono bravi Cazzo Troppo tempo Che sta dicendo Va bene Collaborazione Tra i bts E mcdonald Che di fatto Non ce ne frega niente Non ce ne frega niente Se non che appunto Introdurranno In america Appunto All'interno del menù Di mcdonald Un paio di salse Un paio di nuggets Tipo coreani Finalmente La cosa bella Appunto E che sembra Più che altro Una scusa Per fare Del cross cultural Cose Ed è molto bello È vero Perché comunque Bts Spaccato dovunque Sono Ciganteschi Sono riusciti a fare Il passo oltre Di quello che aveva fatto Psy Di portare La cultura america Gangnam style Coreana La cultura coreana In america Nel mondo Fondamentalmente Perché poi Arrivi in america Ma c'è solo la russia Saudiamo la russia Che non lo so Magari sono famosi anche lì Però Loro sono riusciti a rimanere Perché ormai Stanno da No Sono infiniti Infatti Loro hanno portato Stati un po' Gli ambassador Del K-pop Perché effettivamente Psy L'aveva L'aveva accennato Però loro sono Realmente la cultura K-pop Perché c'è anche Il balletto C'è proprio la cultura Visiva Estetica Estetica Che è diventata così Importante Anche Il La parte Diciamo Coreografica Del K-pop Che tra l'altro L'ultima canzone Dei Coldplay Che hanno lanciato Mo È in collaborazione Con un gruppo Apparentemente Gli ologrammi Che ballano Sono mossi Da un gruppo K-pop Che fa Balli Bello Se dovete ballare Chiamate un gruppo K-pop Comunque l'ultima cosa Io che sono stato in Corea Il McDonald's È diverso Da ogni paese Tipo il Giappone È il più peggiore In assoluto Attenzione Parole dure Cina Cina I Big Mac Erano proprio piccoli Poi c'erano quelli assoluti Tipo quelli neri Con gli verdi Però sì Trovavi anche le zampe di galina A McDonald's in Cina Molto bello Molto bello Beh in Corea Non capivo mai Perché là si mangiano Le zampe di galina È uno snack È come la tua barretta Il tuo crack Il tuo tarallo Di zugna E là ci mangiano Zugna In Corea Nanni La salsa principale È una sorta Di salsa agrodolce Però dentro È un po' strano Una roba Dai comunque Forte Dai La Corea è chiaramente L'ambizione asiatica Cioè L'Asia La rivincita asiatica Totale sul mondo Penso È la California La California Del sollevante Il sogno Esatto Il sogno coreano Adesso Va bene Perfetto Adesso Schiacciami qua Per favore Grazie Allora Grazie Non so perché finita In questo punto Sapete Ogni tanto Ci mettiamo notizie Che Cioè Ci piacciono E basta Solo per il gusto Di dirle Abbiamo un amore Fondamentalmente Per Vice Non l'ammetteremo mai Quasi una rubrica Questa qua Non l'ammetteremo mai Però effettivamente Amiamo Vice E quindi Ogni volta Che troviamo uno Di questi articoli Non possiamo Non Vogliamo condividere Con voi Devo essere onesto Io non l'ho letto Perché mi sembrava Talmente stupida Da leggere Lo è Ma è finita In realtà Raccontala Allora Sostanzialmente Da qualche parte In America Non sarà sicuramente Non lo so No non è vero In Polonia In Polonia è successo Scusate Pensavo Sì a Cracovia Che è successo La puoi raccontare però Con una serietà immotivata Allora Una signora In sostanza Si accorta Che qualcosa Pendeva da un albero Era convinta Con tutta se stessa Che fosse un'iguana Pronta ad aggredire La propria famiglia In realtà Quello che pendeva da un albero Era un croissant E vai Sta pensato bene Di farci un articolo Possiamo chiuderla qui Per favore Per l'amore di Dio Io Capisci Se vedi l'immagine Capisci che questa notizia Se vedi l'immagine Non ha senso Sì esatto Perché è un croissant Non voglio commentarlo Fondamentalmente Era un cazzo di croissant Su un ramo E pensavano Non c'è la versione Non c'è la versione stesa Non c'è la versione stesa Giustamente Perché è un croissant Avrebbe stato un albero Effettivamente Chi se ne frega Però il punto è Che questa notizia È così in marcio Ormai il giornalismo E si rifà Quei cazzo di trend Di inizio anno Che questa notizia Probabilmente Ha fatto guadagnare A Vice Molti più soldi Di un articolo Tipo di uno Che sta in Non lo so In Israele Certo Si è fatto amputare Un braccio Perché c'era la bomba Documentare La storia vera Quello gli ha fatto Tipo mille euro Questo qua Diecimila Esatto Sì C'è un'indagine Proprio in mezzo Sta roba Ma poi appunto C'è un cristiano Che ha chiamato A questi qua Scusate se continuo Però mi diverte troppo Pensare alla dinamica Quello là che chiama Signore della protezione animali C'è un iguana Su un albero Poi quello va là Dopo c'è quello Un tizio Va là e fa Signora è un croissant Finiva lì Dove era il giornalista di Vice Sto dietro E diceva Oh mio dio Questa scena Dato a raccontarla Cioè Come gli è arrivata È una cosa così Insignificante Che non capisco Come sia arrivata Proprio alla mente Di questo tizio Che ha scritto Matthew Champion Si chiama Dico Va beh Basa Chiudi Va beh Matthew Champion Non mi vorrei chiamare anche io così Comunque dai Torniamo Siamo su Cosa da mangiare No vi portiamo questa cosa Questo è un bel esempio Di design Secondo me Proprio da un punto di vista Quasi Cioè di progettuale Vero e proprio Molto Molto bello E in vendita Questo Questo libro Questo libro Che di fatto È un libro di ricette Però Ricette pensate Esclusivamente Per chi Ha gli effetti Del long covid Cioè quindi Chi nonostante sia Guarito Negativizzato Dal covid Non ha ancora Olfatto e gusto Non ha proprio Riguadagnato Completamente Lo sballo Esatto Quindi sono tutte Ricette In sostanza All'interno di questo libro Ma è un bel regalo Per Natale Questo a chi sapete Che magari Ha avuto il covid Proprio per avere l'incontro Per aiutarlo un po' Di ricette Che in realtà Appunto Da quello che ho letto Si usano ingredienti Che proprio Vengono letti Dal cervello E quindi Non c'è bisogno Effettivamente Di assaporarli Ma gli dai Un gusto Con la mente Cioè Ho paura L'aglio L'odore dell'aglio È così Pungente Non so L'aggettivo Che se lo metti Sipo sulla punta Del piede Lo senti nel naso Ho capito Va bene Io non vorrei sapere Dove è appreso Questa notizia In realtà Un altro articolo Di vai Paura Sicuramente No comunque Bellissimo Testa in freddo Provate Provate Non fatecelo sapere Quando l'avete fatto Però possibilmente Comunque no Molto bello Mi piace un sacco Sta roba Cioè Un bellissimo esperimento Proprio super On point Bene Chiudiamo con un'altra notizia Che vabbè Molto carina Anche questa Sempre rimanendo A parlare di cibo Hai mai pensato Quanto sono buoni Questi pastelli a cera No Però Da bambino Io da piccolo Ogni volta C'ho pensato Molto più di una volta Ok perfetto Almeno tre Bene Almeno tre volte Perfetto Quindi adesso Qualcuno si è uscito Con i pastelli a cera Che effettivamente Sono commestibili Perché di fatto Sono fatti Dalle polveri Delle verdure Anche qui ci vedo Del pericolo Assolutamente Perché è un bambino Che cresce Potendoli mangiare Quando va a casa Dell'amico Che ce li ha Non come stibi Si inizia a mangiare Ma stelle Ci ha morto male Il bimbo che fa Ma erano come stibi Ma c'era io La carota Ah Ah non è la carota Senti ma Quella carota L'hai finito E niente È molto bello Anche questa C'è questa sperimentazione Appunto sui materiali Veramente è bello Perché poi Il pastello a cera Il classico pastello Che i bambini Si ficano nel naso Si mangiano Fanno sempre roba Tipo a puntata dei simps Tipo a puntata dei simps Questa qua appunto Avendo fatta di polveri Polveri di vegetali Può essere commestibilmente Mangiata Molto bello Molto carino C'è un kickstarter Il packaging è molto bello È tutto molto bello Ah si Molto curato Regalatelo Giapponesi Direttamente dal Giappone Dal Giappone Perfetto Beh E questo è quanto ragazzi Anche per questa puntata Ce l'abbiamo fatta Piedi a parte A quanto pare Piedi d'aglio a parte Piedi d'aglio Sì Piedi Straordinaria Bellissima La cover Tra l'altro In questo momento Grazie a Michele Quella parte Grazie a Nembo Da quell'altra parte Grazie al pubblico Grazie a stare Grazie a Jacopo Che è venuto A trovarci Quest'oggi A darci la notizia Bellissima Investite Nei biglietti Per lo spazio Perché è inutile andare A Napoli Non dobbiamo andare A spazio Ho i biglietti Per il workshop Ho i biglietti Molto bello I biglietti Per il workshop Assolutamente Tutto trovate là dentro Ci vediamo stasera Da Reficio 11 Perna Papiri A commentare E a giudicare 7 e un quarto Dai 7 e un quarto Siamo lì In live Sul nostro Instagram E vediamo Quanto siamo cattivi Ciao 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 Ciao